bella a tutti ragazzi sono tanicarturo98 e oggi ci troviamo in un nuovo video questo è un video tutorial perché in questi giorni ho scaricato il gioco evolve e ho visto che non mi faceva accedere al gioco dato che il gioco ha bisogno di essere connesso all'account per giocare online la prima crack quindi appena è uscito il gioco funzionava l'online dopodiché dopo un po' l'hanno bloccato e oggi vi dirò il modo per continuare a giocare evolve per offline ok prima di tutto dopo averlo installato con ovviamente aver anche inserito la crack o ci sono due modi o staccate internet che ovviamente è per quelli la che non riescono ad utilizzare al meglio l'antivirus e quindi non hanno mai bloccato qualche applicazione col firewall quindi lo lasciano lì e fa tutto l'antivirus però oggi vi faccio vedere come che è il secondo modo come bloccare il file exe con l'antivirus quindi gli blocchiamo il firewall allora prima di tutto andate sulla schermata del vostro antivirus il mio per esempio è avg selezioniamo opzioni andiamo su impostazioni del firewall oppure ci sta sempre qualche opzione del firewall basta che c'è scritto firewall andate comunque a vedere andiamo su applicazioni ovviamente dovrete scegliere per ogni antivirus ci sarà questa schermata quindi dovrete andare sulla scelta delle dell'applicazione fare aggiungi ovviamente dobbiamo selezionare il percorso selezioniamo evolve apri il nome si crea io già l'ho aggiunto quindi compare questo messaggio fate ok dopo di che vi creerà il file il la regola che il firewall deve essere bloccato ecco come ho fatto qua dovete selezionare blocca non permetti mettete blocca e va bene dopodiché fate applica e ok come volete chiudiamo e avviamo il gioco ecco qua beh vi dirà qua i accordi fate accetto tutto ecco questa qui è la normale cosa che vi dice quando accedete provate ad accedere all'account però ora che abbiamo bloccato il firewall basta premere su ok e vi entrerà in offline ecco qua vaffanculo ecco qua vabbè lasciamo perdere tutt'altro questo era il modo vaffanculo vabbè vaffanculo vabbè il famosissimo alt f4 questo era il modo per ovviamente continuare a giocare su evolve con però senza l'online noi ci rivediamo al prossimo video bella a tutti